Ha assistito il più grande information provider in Italia nella costituzione del proprio istituto di pagamento. Per la giuria si è trattato del mandato dalla maggior rilevanza per il fintech, per calibro degli attori coinvolti e innovatività. Innovatività, questo fascino eterno di aprire una strada, di aprire una via, che sia fisica ma anche giurisprudenziale. Di cosa constava l'innovatività del vostro operato in questo caso? In realtà si trattava di un nuovo servizio di pagamento, quindi da lì abbiamo aperto una strada rispetto a quello senza precedenti e quindi è stato uno dei primi istituti autorizzati. Voi che operate nel fintech, che password usate voi generalmente? La fidanzata, il figlio, non fate quei mischioni in maiuscolo, chissà cosa immaginavo. Grazie, grazie. Grazie, grazie.